Ciao a tutti da Fabio Cherezza. Mi trovo qui insieme all'inseparabile Beppe Bergomi per commentare questa partita. Beppe, secondo te cosa possiamo aspettarci da questa partita? Credo che le due formazioni siano sullo stesso piano. Saranno i dettagli a decidere questo incontro. Piove. Speriamo che il terreno di gioco regga fino alla fine. Speriamo che il terreno di gioco. Speriamo che il terreno di gioco. Beppe Bergomi. Insieme commenteremo la partita che sta per iniziare. Oggi si sfidano due formazioni che sulla carta sono allo stesso livello. Spero solo che le squadre non finiscano per annullarsi. Ne risentirebbe lo spettacolo. Piove. Speriamo che il terreno di gioco regga fino alla fine. Si fa largo. Prova il tiro. E sventa il pericolo con un intervento spettacolare. Sarà corner. Prova con la testa. E giustamente si dispera. Era una buona opportunità. Hanno avuto la loro occasione, ma l'hanno sprecata. Rodriguez. Rimbalza sul giocatore e finisce fuori. Palla che esce. Rodriguez. Raggiunge il compagno. Corsa. Ha interrotto un'azione d'attacco davvero pericolosa. Palla fuori. Sarà corner. C'è il cross. Cross che va a vuoto. Palla alla difesa. Arrivano i compagni. Palla persa. L'attacco non ha sortito alcun effetto se non quello di restituire palla agli avversari. Si spinge in avanti. Ha spazio per tirare. Ha tirato malissimo. Palla che si perde sul fondo. Leo Mura. Può passarla. Ci sono i compagni al centro. Attenzione. Quello fisico per il possesso della palla. Palla intercettata. Traversone preda della difesa avversaria. La difesa avversaria è messa male. Possono infilarla in contropiede. Erano ripartiti bene, ma sono stati fermati. Pinto Ferreira. Leo. Possono far male in contropiede. Rimessa laterale in posizione avanzata. Rodriguez. Potrebbe far partire un cross. Sceglie bene il tempo. Caceres. Prova a stoppargli palla. Rodriguez. Caceres. Pinto Ferreira. Gli avversari riconquistano la palla. Rodriguez. Trova il compagno. Gli avversari interrompono l'azione. Niente da fare. Wagner-Lov. Si spinge in avanti. I difessori sono stati molto veloci nel riconquistare il pallone. La palla finisce fuori. Hanno la possibilità di colpire in contro... Si dirige in solitudine verso la porta. Prova! Ancora in gioco. Rimessa laterale in zona d'attacco. Rodriguez. Litiga con la palla e la trascina oltre la linea dell'out. Caceres. Wagner-Lov. Palla al compagno. Interrompono l'azione. Hanno chiuso bene. Rodriguez. Passaggio intercettato. Caceres. Avanza verso l'area. Passa la palla. Non passa. Bravo il difessore. E il difessore ferma l'azione. Serve il compagno. Pinto Ferreira. Cerca la rete. Palla che finisce in angolo. Calcio d'angolo sprecato malamente. Intercetta la palla. E prova la conclusione a rete. E sbaglia completamente la conclusione. C'è da dire che è più difficile tirare quando piove così tanto. Leo. Splendido movimento senza palla del compagno. Si avvicina all'aria. Cerca addirittura la porta. Palla che non filtra. Hanno ampi spazi per ripartire. Wagner Long. Occasione in vista. Si fa sotto. Si sono mangiati un gol concludendo a lato al termine di una ripartenza micidiale. La fretta di dover concludere potrebbe essergli costata cara. Rodriguez. Gioco di passaggi. Può metterla in mezzo. Grande opportunità. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per un tocco con il braccio. Azione interrotta. E l'appoggio di testa a un compagno. Possibilità di ripartenza veloce. Sviluppano il gioco. Che classe. Ecco il tiro. E il tiro finisce a lato. L'idea era buona Fabio. Il tiro un po' meno. Sarà rinvio dal fondo. González. Wagner Love. E perdono palla. Pinto Ferreira. Porta palla verso l'aria. Gioca la palla sulla fascia. Si libera della margadura. Ottimo passaggio. Parte il tiro. Cáceres. Passaggio a buon fine. Prova a far passare il pallone ma non passa. Riesce il passaggio. Ottima occasione. Attenzione rete. Ha colpito al volo senza lasciare scampo al portiere. È stato bravo a sfruttare l'assist perfetto del compagno. Cáceres. La passa al compagno. Non è solo. Ha provato a crossare. Non c'era nessuno in mezzo. Ha sbagliato. Ed è calcio d'angolo. Cáceres. Ed è fuori. Ci ha provato di testa ma non è riuscito a trovare la porta. I difensori sono rimasti un po' troppo fermi. Nessun danno comunque. Sbaglia tutto. Palla oltre la linea dell'auto. Pinto Ferreira. Cáceres. Si porta in avanti. Palla al compagno. Vanifica l'azione avversaria. Pinto Ferreira. Cáceres. Pinto Ferreira. Bel passaggio. Chiusura buonissima. L'azione non può procedere. E la palla finisce in angolo. A spazio. Prova il tiro. Calcio al volo. Spedendo però la palla fuori. Un assist splendido che meritava miglior sorte. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. 1-0 alla fine del primo tempo. Le statistiche non sono esaltanti per questo primo tempo. Sì, entrambe le squadre hanno combinato davvero poco, Fabio. Contrasse energico ma resta in piedi. Pinto Ferreira. E ormai in zona d'attacco. L'idea era buona ma il difensore è stato attento. Cossa. Di prima. Manca la conclusione a rete. Le condizioni meteorologiche stanno rendendo tutto più difficile, Fabio. Si smarca con classe. Cerca i compagni. Un po' in affanno ma riesce a spazzare. Hanno allontanato il pericolo ma solo temporaneamente. Sviluppano il gioco. Attenzione. E il tiro finisce a lato. Sì, si è trovato a calciare con il piede sbagliato, Fabio. E sarà a calcio d'angolo. Intervento di testa liberare. Tiro improvviso. Manca il bersaglio. Ha colpito male la palla. Peccato. Ecco che tenta il tiro. e l'incontro si riapre. Rivediamo il suo gol, Beppe. Cosa farebbe questa squadra senza di lui? Bella domanda, Fabio. Per fortuna, però, non devono porsi questo interrogativo. Caceres. Serve alla perfezione il compagno. Appoggia al compagno. Difesa impeccabile. Palla agli avversari. Si spinge in avanti. Allunga il compagno. vediamo il tiro. Palla oltre la linea, si riprenderà con un corner. Brutto questo calcio d'angolo. Il pallone è stato regalato agli avversari. La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche. Palla al compagno. Interrompono l'azione. Hanno chiuso bene. E il difeso... Wagner Long. L'assistente alza la bandierina. Proteste da parte del giocatore che stava andando indisturbato verso la porta avversaria ma è stato segnalato fuori gioco. È chiaramente un cambio tattico volto a cercare di sbloccare la partita. Finora, in effetti, la partita è stata molto in equilibrio. Interviene il direttore di gara. E il direttore di gara perde la pazienza e ammonisce un giocatore in barriera. Lo aveva avvertito, Fabio. E pare che non ci sia nessuno a sfruttare il cross. Wagner Long. Si spinge in avanti. Costruiscono bene la manovra. Serve il compagno. Attenzione. Testa! Palla che esce. Palla persa. Rodriguez. Cáceres. Sale un compagno ad aiutarlo. Wagner Long. Si avvicina l'aria. Lancia illuminante. Calcio in porta. Il portiere non si fa sorprendere. Ancora un calcio d'angolo. Ecco il dato riferito ai calci d'angolo battuti. Circa addirittura la porta. Leo. Comperizia salta l'avversario. Colpo di tacco. Passaggio sbagliato. Palla fuori. Avanza verso l'aria. Pinto Ferreira. Rimessa laterale. Pinto Ferreira. Passaggio riuscito. Non riesce a servire il compagno. Ottimo a interrompere la giocata degli avversari. e si trascina inspiegabilmente la palla fuori dal campo. Gioco di passaggi. Supera l'avversario. Supera l'avversario. Pinto Ferreira. Porta palla verso l'aria. Manovra interrotta dall'intervento del difessore. completa il passaggio. Capisce tutto e ruba palla. Alla peggio nello scontro dovrà abbandonare il campo di gioco. Brutto infortunio per lui. Speriamo si riprenda in fretta. La difesa risolve la situazione. Scampato Prigolo. Scarica sul compagno. Ecco che tenta il tiro. La palla è lì. Hanno sprecato questa occasione. Il risultato resta in parità. L'ha mancato di un soffio. E per loro sarebbe stato molto importante. E intercetta una palla pericolosissima. Palla persa. Riesce il passaggio. Vince un contrasto lungo la fascia e si riappropria della palla. Passaggio riuscito. Chiude il triangolo col compagno. Chiusura efficace. Vogliono la vittoria. Ancora pochi giri d'orologio. Senta la marca 2. Palo. Occasione. La palla è ancora buona. Serve alla per... E solo può andare in porta. Una giocata sensazionale. Intuisce a nulla il pericolo. E si chiudono qui i supplementari. Si andrà ai rigori. E si avvicina al dischetto poco convinto. Realizza il calcio di rigore. Goal! Niente da fare per il portiere. Non sbaglia. La palla è in rete. Ha calciato con sicurezza. Rece non sbaglia. In sacca! Non si è lasciato tradire dall'emozione. Non sembra troppo sicuro di sé. Rece! Goal! Goal! Ha calciato con il portiere perfetto. Deve segnare ad ogni costo. E non vorrei essere nei suoi panni. Realizzato! Realizzato! Manca il persaglio! Era un errore annunciato. Non mi sembrava molto tranquillo. Momento cruciale della gara. È finita! Con questo calcio di rigore si aggiudica nel match. È andato sulla palla sicuro di fare centro e non ha sbagliato, regalando la vittoria alla sua squadra. Grazie!